ho sentito il ronzio delle api che mi girano intorno ma è bellissimo stare qui con loro ora in mezzo a decine di migliaia di api non ce n'è una che abbia voluto pungermi devo essere diventato veramente brutto ma mamma mia nemmeno le api più mi pungono guardate quante ce ne sono nell'aria guardate sono migliaia e migliaia io ho un grand'angolo e quindi posso allontanarmi e avvicinarmi come voglio anche se sono a una distanza di circa tre metri ecco qua guardate quante ce ne sono e le altre sono tutte in giro a me naturalmente che non si vedono eccole qua ma ca meraviglia oggi è stato veramente un bel divertimento a volte si va mascherati con la maschera con i pantaloni con tutto basta che escano tre api e ti pungono in due qui invece sono talmente interessati al miele che non ci pensano neppure arrivederci alla prossima puntata se non mi mangiano adesso